Eric Zanchi, Trissatim, Bornato, Franciacorta, terzo odio sul trovare di Treviglio, soddisfatto o rammaricato? Soddisfatto perché dopo un'inizio di stagione deludente, il terzo posto fa bene al morale, si vede lo spiraglio di luce. Raccontaci un po' le fasi salienti di questo sprint. Ma è partita lunga come volata, è stata molto dura, sono riuscito a sbuccare la terza posizione e è andata bene. Abbiamo visto protagonista anche nella fuga iniziale, sembrava quasi che potesse andare in porto, invece poi tutto in un momento il gruppo si è rifatto sotto. Sì, pensavo anche che andava in porto, però il gruppo ha recuperato bene e pazienza, siamo arrivati in volata. A questo punto quindi un piazzamento che ti dà una forte iniezione di fiducia, ti vedremo protagonista nelle volate. Sì, esattamente che fa bene e speriamo di andare avanti così e di fare anche dei successi.